L'ultima relazione di Alessandra Cavaterra su Gentile e il caso enciclopedia italiana. Lascio la parola a Alessandra Cavaterra. Ringrazio anch'io gli organizzatori per avermi invitata ed entro subito in medias res, ricordandovi che l'enciclopedia italiana è stata oggetto di numerosi studi che hanno considerato sia l'opera nel suo complesso, sia alcuni aspetti più specifici, come quelli relativi alle sezioni disciplinari o alle singole voci. Possiamo forse dire che l'enciclopedia italiana fu un caso per i contemporanei a causa di diversi fattori, mosse e reazioni divergenti opposte sia per l'accoglienza fra i suoi collaboratori in un momento storico particolare, di personalità distanti dall'orientamento ideologico dominante, per le trattazioni via via pubblicate, per l'inclusione tra quelle enciclopediche di materie nuove o con rinnovata impostazione e per la partecipazione ebraica. E continua ad essere un caso per gli studiosi oggi, tuttora poco concordi intorno al giudizio sull'operazione enciclopedica. Il crearsi del caso è fondamentalmente dovuto al fatto che a dirigere l'enciclopedia fu Giovanni Gentile. Il binomio Giovanni Gentile-Giovanni Treccani riuscì là dove negli anni precedenti altri avevano mancato, cioè la creazione di una enciclopedia nazionale impostata scientificamente. L'uno, il filosofo attualista che vedeva nella realizzazione di un'opera enciclopedica la possibilità di costruire una cultura italiana il più possibile unitaria. L'altro, l'industriale mecenate, già noto per alcune benemerenze culturali e filantropiche, forse in cerca di una legittimazione intellettuale, intesero, l'uno e l'altro, con la costituzione dell'Istituto Giovanni Treccani, dare vita sia alla enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, sia al dizionario biografico degli italiani, il cui lavoro fu impostato già dal 1925, impostato, iniziato, ma pubblicazione rinviata. La costituzione dell'Istituto avvenne il 18 febbraio 1925. Nel clima incandescente di quei momenti, nella temperie della costruzione dello Stato autoritario, con la presentazione del disegno di legge sulla stampa, i sequestri di giornali, la costituzione della Commissione del 18, eccetera, le affermazioni di Treccani sull'indole dell'Istituto, a politico in senso assoluto, le parole del manifesto della enciclopedia italiana inviato ai possibili collaboratori, l'enciclopedia vuole essere opera nazionale superiore a tutti i partiti politici, le raccomandazioni delle avvertenze ai collaboratori, gli scrittori dell'enciclopedia avranno cura di parlare con rispetto assoluto dell'altrui pensiero e coscienza, tutto questo rappresentò un controcanto rispetto agli accadimenti coevi, al costituendo regime. E così come fu sorprendente, poi vedremo fino ad un certo punto, trovare i nomi di Gaetano De Sanctis, Luigi Einaudi, Vittorio Scialoia, all'interno del consiglio direttivo dell'Istituto, davanti al quale Treccani esponeva il progetto enciclopedico. E altre stranezze, altre eccentricità, si sarebbero verificate nel tempo, con le, direi, logiche conseguenti polemiche di stampa. Lo stesso annuncio della creazione di una enciclopedia nazionale diede l'avvio ad alcune reazioni su giornali e riviste che se da una parte plaudivano all'iniziativa considerata ipocale, dall'altra con le ironie di Adriano Tilger, di Angelo Fortunato Formiggini, con la stroncatura anticipata dell'unità, ponevano in risalto l'inadeguatezza, a loro parere, dell'opera annunciata. Della enciclopedia italiana, Gentile divenne direttore scientifico. Di fronte a sé aveva il problema della natura di un'opera enciclopedica. Per usare le parole di Augusto del Noce, Gentile era ossessionato dall'idea dell'unità. Unità in filosofia, unificazione culturale dell'Italia, unità politica degli italiani. Per la formazione di una enciclopedia, un problema piuttosto urgente. In questa riflessione si innestava l'obiettivo dell'opera gentiliana, la costruzione dell'identità nazionale italiana nello Stato unitario nato dal Risorgimento. Quindi funzione pedagogica rivestiva in larga misura per Gentile tutta l'operazione enciclopedica. Un compito impegnativo, diciamo complesso, perché occorreva riportare ad unum valori, idee, esperienze che costituivano la ricchezza dell'Italia, ma che nello stesso tempo, secondo Gentile, dovevano essere come rifusi per restituire l'immagine finalmente compiuta della cultura italiana, dell'italiano consapevole di sé. Questo è l'obiettivo dell'attività di Gentile. Come raggiungerlo? Si sa che, insomma, è abbastanza noto che la prefazione alla enciclopedia italiana pubblicata nel primo volume del 1929, la carta enciclopedica, per dirla con ugo spirito, contiene la chiave per comprendere il modus operandi gentiliano. Ne hanno parlato diversi studiosi, fra cui Margarete Durst, che ha ricordato come Gentile tenesse presente la contrapposizione tra enciclopedia libro, quindi idea dell'unità, ed enciclopedia biblioteca, dunque idea della molteplicità. Concludendo che solo attraverso la Concordia Discourse, l'enciclopedia poteva dirsi un libro. Consapevole dunque della molteplicità culturale e ideologica italiana, fra l'altro impersonata da molti intellettuali, Gentile intese chiamare a raccolta sulla base del principio della competenza tutti coloro che, indipendentemente dall'orientamento politico e filosofico, fossero in grado di contribuire alla costruzione dell'opera. E quindi, nella prefazione, per l'appunto il richiamo alla Concordia Discourse, prefazione di mano gentiliana ma non firmata, il richiamo alla Concordia Discourse, che inevitabilmente ricorda l'antico sodalizio con croce, che da un certo momento in poi si svolse secondo questa modalità. Ebbene, il richiamo alla Concordia Discourse dà l'idea della duttilità dell'operare di Gentile. Il principio unitario sarebbe stato dato dal pensiero di un popolo e di un'epoca, come si esprimeva Gentile. Pensiero, direi, necessariamente coerente, che, unito al ragionevole eclettismo pure citato nella prefazione, avrebbe condotto al coro intonato, al grande concerto, ancora parole di Gentile. Io direi che non è, in questo caso, poi da sottovalutare la convinzione di Gentile circa il progressivo, ineluttabile, avvicinarsi al fascismo delle posizioni degli avversari. Convenzione resa esplicita nel manifesto degli intellettuali fascisti, stilato proprio nelle settimane di chiamata raccolta della cultura italiana all'opera. Quindi non è da escludere che Gentile annoverasse l'enciclopedia tra gli eventi che avrebbero portato al risultato dell'Italia fascista e fascistizzata. La risposta al manifesto, come noto, voluta da Giovanni Amendola e da Benedetto Croce, vide la tensione di molti personaggi già contattati da Gentile per l'enciclopedia, alcuni dei quali si sottrassero all'impegno. Ma la vicenda dell'antimanifesto nocque fino ad un certo punto all'enciclopedia gentiliana. Intanto gli autoesclusi non furono molti. Nel tempo Luigi Einaudi, Santino Caramella, Francesco Ruffini, Gaetano Mosca, ma furono molti di più coloro che firmarono l'antimanifesto e rimasero o divennero collaboratori enciclopedici. All'invito di Gentile risposero calorose adesioni di quasi tutta l'intellettualità italiana. Le espressioni di accettazione avevano toni entusiastici. Qualche esempio, Rodolfo Benini dell'Università di Roma, plaudo alla nobile e magnifica iniziativa e ringrazio per l'onore che mi fa. Pantaleo Carabellese parlava di grande prova intellettuale dell'Italia nuova. Francesco Coletti dell'Università di Pavia, ella mi invita veramente a un'opera di alta e pura italianità, sorvolante in alto, al di sopra delle parti politiche. Lorenzo Bianchi, dell'Università di Bologna, mi è dovere e onore aderire all'invito di collaborare alla enciclopedia italiana che con altamente invitta fede ed energia animatrice ella si accinge a dare all'Italia. Il costruttore navale Carlo Alberto Bertella ho pensato molto, se potevo meritare l'onore, di collaborare ad un'opera così grandiosa. Certo, il mio aiuto sarà piccolo, ma lo darò con fede, con religione. Quindi è facile qui rilevare il grande ascendente che Gentile esercitava su tanti intellettuali. Certo, alcuni grandi nomi che rifiutarono l'invito fecero scalpore. In primis, quello di Benedetto Croce, il cui rifiuto è stato raccontato da Cristina Farnetti, non collaborò all'enciclopedia Guido De Ruggero, non vi collaborò Giuseppe Lombardo Radice, defezione particolarmente dolorosa per il direttore scientifico, ma, si diceva, i collaboratori firmatari dell'antimanifesto furono così numerosi che nel 1926, dopo la pubblicazione del primo elenco di collaboratori all'enciclopedia italiana, pubblicazione voluta dall'Istituto Giovanni Treccani, i vertici del PNF, del Partito Nazionale Fascista, affrontarono la questione degli intellettuali aventiniani collaboratori dell'enciclopedia del Gentile, come si espresse Augusto Turati in una lettera ad Alessandro Chiavolini, entrambi probabilmente messi sull'avviso da un articolo di Telesio Interlandi, citato stamattina, che denunciava su Il Tevere, sulla rivista Il Tevere, che denunciava la presenza di almeno 90 nomi di intellettuali che seguirono Croce nell'anno precedente e che erano, i cui nomi erano presenti nel primo elenco di collaboratori. E della questione ovviamente fu interessato Mussolini che, sembra proprio, in un incontro con Gentile lo autorizzò a proseguire per la strada tracciata. E intanto si costituivano gli organi dell'istituto, gli uffici di redazione, quindi la redazione generale, le redazioni di sezione, e si venivano costituendo le sezioni disciplinari. Le materie accademiche avrebbero trovato posto nei vari ambiti che si stavano formando e furono ritenuti degni di assurgere alla dignità di sezione enciclopedica anche alcuni campi di attività relativi per lo più a studi tecnici e militari. Il primo volume dell'enciclopedia uscì nel 1929. Gli altri 34, erano previsti 35 volumi in tutto, regolarmente ogni tre mesi con, come si diceva, ritmo fascista fino al 1937 alla conclusione dell'opera. erano ovviamente tra il 26 e il 28 erano cominciate le assegnazioni delle voci, la scelta dei collaboratori, erano cominciati ad affluire gli articoli da parte degli autori ed era iniziata ovviamente la revisione redazionale di essi. Ora, questa attività redazionale non fu intaccata dalle trasformazioni societarie, infatti nel 1931 difficoltà economiche indussero Treccani che aveva messo parte del proprio capitale in questa impresa ad unirsi alla Bestetti Treves Tuminelli e all'anonima libraria italiana di Ettore Bocconi con il risultato di creare la Treves Treccani Tuminelli ma anche le condizioni finanziarie di questa nuova società erano piuttosto precarie a causa di problemi negli enti che l'avevano costituita. La storiografia in particolar modo Gabriele Turi ha ricordato i tentativi del direttore scientifico per sanare la situazione tentativi e volti soprattutto a ottenere abbonamenti cioè acquisti dell'opera da parte di enti pubblici e si sa anche che in informative riservate a Mussolini sottolineavano i tanti benefici ottenuti dall'enciclopedia come per esempio i comandi di insegnanti di liceo e di professori di docenti universitari presso la redazione l'acquisto a prezzi irrisori comunque di favore di cartine geografiche dal Turing Club e si faceva ovviamente presente anche si lamentava in realtà lo strapotere in campo editoriale del senatore gentile compresa la sua particolare posizione all'interno della enciclopedia dove si diceva era impegnato un esercito di collaboratori che devono per forza di cose obbedirgli ma comunque in ogni caso la generale situazione economica non consentiva agli enti pubblici l'acquisto dell'opera e a questo punto venne in aiuto il governo con il decreto del 24 giugno 1933 che costituiva l'istituto dell'enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani con nuovi organi statutari era una come si diceva società anonima per quote i nuovi organi statutari sarebbero stati l'assemblea il presidente il direttore generale il comitato di amministrazione il consiglio il vecchio consiglio direttivo l'atto costitutivo del nuovo istituto fu firmato il 30 giugno seguente a Palazzo Venezia presente Mussolini ebbe un notevole risalto sulla stampa Gentile con Treccani ne divenne il vicepresidente alla presidenza si sa giunse Guglielmo Marconi intanto erano riprese le polemiche sui giornali nel 1931 Gentile si trovò costretto a rispondere con la nota serie di articoli le tribolazioni di un enciclopedista sul Corriere della Sera a obiezioni e osservazioni sull'esattezza e la precisione delle notizie enciclopediche infatti dopo l'uscita dei primi volumi appunto dal 1929 le emende vere o presunte rilevate dai lettori sia pubblicamente sia per corrispondenza diedero al direttore scientifico l'occasione di ribattere a ciò che si adombrava come uno screditamento dell'opera le polemiche però e le discussioni intorno alla enciclopedia proseguirono sulla stampa ma con accenti diversi più mirati all'essenza stessa dell'opera le stilettate di croce sulla critica a voci di gentile le reprimende di vita nova a proposito della partecipazione di ecclesiastici nella enciclopedia le contestazioni del bargello e il secolo fascista per l'assenza di biografie di martiri fascisti le proteste della vita italiana in relazione alla presenza nella enciclopedia quali autori enciclopedici di Gaetano De Sanctis di nuovo e di Giorgio Levi della vita ora entrambi avevano firmato l'antimanifesto e avevano rifiutato il giuramento imposto ai professori universitari nel 1931 e questo ovviamente suscitava un grande scandalo presso Taluni ma Gentile in ogni caso riuscì a mantenere entrambi all'interno dell'istituto e da parte sua la civiltà cattolica recensiva con una certa periodicità voci enciclopediche più o meno benevolmente e altre riviste come l'illustrazione italiana la fiera letteraria mostravano un certo apprezzamento dunque si può dire che il caso enciclopedia italiana si stava dilatando nel tempo intanto la compilazione della enciclopedia era entrata nella sua fase finale la necessità di aggiornare le voci anche dietro le sollecitazioni dei lettori era nata fin dal 1933 e quindi nel 1934 cominciarono ad uscire fascicoli di aggiornamento in numero di due all'anno fino al 1937 nel 1938 vennero riuniti in volume la appendice ulteriormente modificati all'appendice venne premessa una prefazione stavolta firmata da Gentile dove l'orgoglio di direttore dell'opera è condiviso con tutti i collaboratori direttori di sezione autori redattori ed è steso ai fruitori perché scrive Gentile tutta l'Italia ha sentito di essere impegnata come in una grande prova della sua cultura nazionale e delle qualità non pure tecniche e intellettuali ma anche morali che alla vera e schietta cultura si appartengono ma come operò Gentile nella concreta realizzazione dell'opera nella scelta dei direttori delle sezioni enciclopediche Gentile si attenne al principio della competenza sorvolando più o meno intenzionalmente sulle posizioni politiche delle personalità chiamate a ricoprire questo ruolo e quindi ecco i nomi di Aetano De Sanctis di nuovo e poi il De Brando Pizzetti Fortunato Pintor Enrico Fermi Michele La Rosa Gustavo Giovannoni Giovanni Maver Ettore Logatto e tanti altri le sezioni ebbero un numero variabile tra 48 e 60 nell'arco dei nove anni di gettazione dell'opera ma da questi nomi è possibile scorgere il ragionevole eclettismo citato da Gentile nella prefazione del 1929 e non meno attenta ed ecumenica fu la scelta dei redattori Antonino Pagliaro Bruno Migliorini Umberto Bosco redattori capo in diversi momenti e poi Ugo Spirito Ugo Amaldi Ugo Lamalfa Emilio Servadio Elio Migliorini Ernesto Sestan Raffaello Morgan e così via con questi uomini e con il mezzo enciclopedico Gentile intendeva rendere concreto il proprio concetto di cultura come consapevolezza degli italiani della propria identità sia come singoli sia come comunità da raggiungere consapevolezza da raggiungere attraverso una formazione permanente partendo dalle origini dalla cultura popolare fatta di folclore dialetti e tradizioni quindi furono significative scelte di direttori di sezione come quella del linguista Giulio Bertoni esperto di dialetti italiani divenuto direttore della sezione linguistica la sezione storia medievale moderna fu affidata a Gioacchino Volpe il pandan storiografico del pensiero di Gentile come lo definisce Giuseppe Parlato cui spettò il compito nella voce Italia storia di indicare di affermare l'avvenuta reduccio ad unum attraverso la letteratura e la lingua della cultura italiana secoli addietro il direttore della sezione letteratura italiana l'italianista Vittorio Rossi si comportò come il direttore scientifico nella scelta dei collaboratori invitando a partecipare esponenti accademici e non di ogni indirizzo filosofico e scientifico crociani anticrociani rondisti positivisti storicisti e così via largo spazio fu riconosciuto alle sezioni antropologia ed etnologia a capo della seconda Gentile chiamò Aldo Brandino Mocchi assertore dell'autonomia degli studi etnologici da quelli fisico naturalistici che a suo parere dovevano formare oggetto delle sole discipline antropologiche per la direzione della cui sezione fu reclutato Gioacchino Siera autore della voce razza a cui poi si accennerà segnale rilevante fu l'attenzione rivolta al folklore il folklore non era materia accademica venne insegnata venne insegnata dopo la riforma Gentile per qualche anno nelle scuole medie e nelle scuole di avviamento e quindi dal punto di vista enciclopedico le voci relative vennero inserite negli elenchi di voci delle sezioni etnologia e scienza delle religioni Gentile però volle incaricare Raffaele Corso studioso di folklore dello studio di questi dell'esame di questi elenchi per poter trarre gli argomenti poterne trarre gli argomenti più propriamente folclorici per formare per modellare un settore enciclopedico più o meno autonomo non mi sentirei di dire che sia stata effettivamente creata una sezione folclore anche se questa espressione viene usata da corso nella corrispondenza con Gentile ma l'autonomia della materia forse è asserita dal suo affidamento ad un redattore dedicato Alberto Pinkerle ora tutto questo però non significa che il disegno Gentiliano abbia proceduto senza scosso e soprattutto che si sia attuato integralmente intanto vorrei ricordare un piccolo episodio relativo alla primitiva denominazione della sezione intitolata alla scienza delle religioni nome dovuto probabilmente a Gentile nel 1925 la sezione fu affidata a Raffaele Pettazzoni titolare della prima cattedra di storia delle religioni all'Università di Roma principio della competenza ma come è stato notato Pettazzoni enunciò una distinzione tra scienza delle religioni e storia delle religioni con la conseguente storicizzazione delle discipline etnologiche avversata dall'idealismo il titolo definitivo poi dato al settore disciplinare enciclopedico di Pettazzoni storia delle religioni fu il riconoscimento della concezione aconfessionale nella ricerca storico-religiosa quindi più che un semplice cambio di denominazione forse fu una piccola vittoria sull'idealismo dunque sulle persuasioni dello stesso direttore scientifico il quale il quale oltre a ricoprire il ruolo di direttore scientifico era anche direttore della sezione filosofia e pedagogia ora la costruzione che originariamente nel 1925 Gentili aveva pensato per per questa per queste materie lo collocava al vertice di una ripartizione disciplinare riguardante la filosofia l'educazione la religione ben presto però si ritenne opportuno il coinvolgimento organico formale della componente ecclesiastica nella creazione della enciclovedia bene al di là di quanto Gentile avesse immaginato dunque nel 1926 fu creata la sezione materie ecclesiastiche che nelle intenzioni del direttore scientifico doveva avere un contenuto limitato alla liturgia e al culto alla testa della sezione alla direzione della sezione fu chiamato il padre gesuita Pietro Tacchi Venturi che compose un corpo redazionale formato da alcuni padri della Gregoriana e a quel punto Gentile pensò di porre a presidio della propria impostazione all'interno della sezione il redattore Ugo Spirito mentre le altre sezioni dell'area filosofia e pedagogia e storia del cristianesimo si andavano formando in quest'ultima storia del cristianesimo la sentinella redazionale sarebbe stata il suo allievo Adolfo Modeo il fattore che avrebbe fatto saltare la previsione gentiliana di un settore da lui tenuto sotto controllo fu la risoluzione della componente ecclesiastica che sentendosi investita diciamo così di un mandato preciso a proposito della corretta presentazione della dottrina cattolica in ambito enciclopedico intesa estendere il controllo a voci di sezioni che non le spettavano diciamo così però chiedendo modifiche suggerendo modifiche e modificando a quel punto per Gentile il problema era quello di arginare i desiderata ecclesiastici anche perché diversi autori stavano contestando questi interventi con la richiesta di non siglare le voci erano siglate e non firmate di non siglare le loro voci modificate da questi personaggi lo stratagemma principale cui ricorso è gentile fu quello di accostare nell'ambito di voci più sensibili diversi paragrafi con indirizzi di pensiero differenti in questo che qualche volta avevano anche l'effetto di annullare di stemperare l'impostazione cattolica l'esempio che a questo proposito di solito si fa è quello della voce religione che aveva la seguente articolazione concetto cattolico del padre Enrico Rosa filosofia in parte di Gentile in parte di Guido Calogero storia delle religioni di Pettazzoni ma nonostante questi accorgimenti Adolfo Omodeo irritato per gli interventi ecclesiastici anche su proprie voci preferì lasciare l'enciclopedia abbandono che spiacque molto a Gentile che stimava assai Omodeo ma che in quel caso considerò eccessivamente intransigente d'altra parte altri redattori e autori come Guido Calogero e Alberto Vinkerle le cui voci furono spesso poi oggetto di revisione ecclesiastica pur opponendo agli ecclesiastici e allo stesso Gentile le proprie ragioni intesero rimanere in ogni caso all'interno dell'enciclopedia però Gentile si rese conto di dover contrattare di volta in volta i contenuti delle singole voci prese in esame e bisogna forse riconoscere che le concessioni fatte agli ecclesiastici non furono poche piccole modifiche piccole aggiunte e così via o quanto invece alla conduzione vera e propria della sezione filosofia e pedagogia è stato notato che gli autori interpellati furono per la numericamente maggiorità furono per lo più studiosi attualisti in realtà l'invito venne steso a intellettuali di vario indirizzo come Antonio Aliotta Antonio Banfi Bernardino Varisco Galvano della Volpe Francesco Restano Rodolfo Mondolfo Agostino Gemelli in realtà padre Gemelli si auto invitò Gentile lo accolse Gemelli stese diverse voci ma non la voce psicologia sperimentale che pure aveva richiesto e anche diversi studiosi modernisti parteciparono alla stesura dalla compilazione dell'enciclopedia anzi a questo proposito sembra accertato un contatto diretto tra Gentile ed Ernesto Buonaiuti per un consiglio sulle personalità da coinvolgere e anzi due di queste Alberto Pinker di nuovo e Mario Niccoli furono molto attivi anche all'interno della redazione il primo con la responsabilità dell'ufficio aggiornamento il secondo direttore dell'ufficio schedario ed ecco il terzo ruolo diciamo la terza veste che Gentile indossò all'interno della enciclopedia e cioè quella di autore di voci intanto come è stato forse citato stamattina la voce fascismo che ha avuto un destino singolare in realtà la voce non è stata firmata da Gentile ma da Mussolini Gentile la stese e Mussolini forse la rivide un po' e poi la firmò ma il contenuto venne anticipato dalla stampa nel 1932 e Pio XI il pontefice regnante la contestò e allora a questo punto Mussolini in fretta e furia compilò personalmente un altro paragrafo della voce che accostò a quello di Gentile e tutto ciò mentre il volume se non sbaglio almeno in parte alcune copie erano già state distribuite che vennero quindi ritirate ora a parte la vicenda della voce fascismo Gentile poi scrisse altre sei voci il paragrafo la parte introduttiva della voce arte la biografia di Ottavio Colecchi il paragrafo Leonardo filosofo della voce Leonardo la parte sulla dottrina di Mazzini nell'omonima voce l'intera voce poesia e la prima parte del paragrafo filosofia della voce religione le voci sono state brevemente commentate da Gretel Durst io vorrei qui solo notare come anche nella enciclopedia italiana Gentile intese pubblicare un omaggio a Mazzini al suo pensiero alla sua dottrina alla sua vita religiosamente vissuta come scriveva come fece in molti suoi scritti e in molti suoi discorsi e un altro capitolo importante è quello della collaborazione ebraica nella sua attività all'interno dell'enciclopedia Gentile mostrò la più assoluta lontananza dalle idee di razzismo e di antisemitismo il contributo di studiosi ebrei fu molto consistente direttori di sezione redattori e anche ovviamente autori sono un po' fuori tempo va bene vi basti sapere questo cioè è stato un consistente e in realtà volevo soltanto citare l'aggiornamento della voce razza appunto abbiamo parlato della voce razza redatta da da Gioacchino Sera nel 35 mi pare e il suo aggiornamento nell'appendice del 38 relativo all'introduzione della legislazione anti-ebraica fu una mera aggiunta senza modifiche della trattazione precedente una sorta di paragrafo ulteriore e venne svolto come ha notato Gennaro Sasso senza l'aggiunta di una parola che suonasse di plauso e niente terminata l'enciclopedia italiana se posso avere due minuti soli terminata l'enciclopedia italiana tra il 37 e il 38 la redazione fu smobilitata ma alla fine del 38 venne di nuovo ricomposta anche se più piccola per la pubblicazione la preparazione della enciclopedia minore un'opera in 12 volumi la nuova enciclopedia doveva essere pronta per il 1941 ma ovviamente la guerra rallentò i lavori i collaboratori lamentavano difficoltà nel reperire i testi materiali necessari per la compilazione delle voci ma nonostante questo alla metà del 43 si era raccolta buona parte dei manoscritti però Gentile osservava che per le voci geografiche il testo di molti articoli non può essere neppure delineato la stessa denominazione di alcuni toponimi era incerta se polacca se tedesca e a un certo punto comunque si decise di rinviare la pubblicazione alla termine del conflitto questa era la situazione alla fine del settembre del 43 quando l'istituto e per l'istituto fu nominato un commissario straordinario appunto nella persona di Guido Mancini professore di storia delle dottrine politiche già direttore del dizionario di politica edito per i tipi dell'istituto ma senza il concorso della redazione Mancini assente Gentile che si trovava a Troghi procedette prima alla ricognizione di quanto posseduto dall'istituto documenti amministrativi editoriali e redazionali eccetera poi alla smobilitazione e al trasferimento in realtà il personale venne licenziato perché si rifiutò il trasferimento a Bergamo comunque in merito alle vicende dell'istituto esiste appunto un carteggio tra Gentile e Mancini dai toni direi drammatici dove Gentile rivendica il proprio ventennale ruolo all'interno dell'enciclopedia e Mancini per parte sua si rammaricava della difficoltà dei contatti spiegava Gentile le sue ragioni nelle comunicazioni vi è una sorta di triangolazione tra Gentile Mancini e Fortunato Pintor che teneva i contatti con l'ex direttore scientifico e lo informava dei suoi incontri con Mancini a Piazza Paganica e del trasferimento della sede dell'istituto con i materiali enciclopedici ma uno dei primi pensieri scrive appunto Pintor in questo sgombero sono stati le tue carte e i tuoi libri che chiusi in pacchi con l'indicazione di ciascuno sono stati portati a casa tua dove le ha ricevuti Benedetto tre settimane prima dell'uccisione del filosofo l'ultima lettera conosciuta del carteggio tra Gentile e Pintor una missiva di Pintor dove si parla di un'incombenza il pagamento di alcune schede biografiche a un archivista dell'archivio di Stato di Torino forse a proposito del dizionario biografico degli italiani concludo anche se volevo dare informazioni sulle dieci voci che nel tempo sono state dedicate dagli istituti vediamo se c'è qualche domanda grazie grazie per l'intervento Alessandra Cavaterra abbiamo qualche minuto per un dibattito un breve dibattito sulle tre relazioni se ci sono domande o interventi prego come alta e pura italianità anche se mi è sfuggito il nome del professore dell'Ateneo Pavese Aspetti glielo dico subito lo trovo immediatamente lo dice Francesco Coletti dell'Università di Pavese che materia era? no vabbè Francesco Coletti in questo momento non lo ricordo però era tra l'altro era però volevo dire che in effetti come definizione è un po' riduttiva perché in realtà il progetto dell'Incezionario Italiano fu da parte del filosofo un vero atto di fede nel primato morale civile e intellettuale dell'Italia come come infatti se dobbiamo credere a quanto affermato da Giovanni Reale che abbiamo appena salutato giorni fa il sistema del gentile è stato l'estremo compimento della storia dell'idealismo e non ho sinceramente non ho dubbi sul fatto e d'altra parte una certa conferma mi viene anche dalla relazione dalla seconda relazione del professor Sebastiano e non ho alcun dubbio sul fatto che sempre nel pensiero di Giovanni Gentile e l'umanesimo rappresentasse appunto l'affermazione della cultura italiana nella storia del mondo e che abbia avuto una parte determinante e questo va bene starò detto ho detto questo così diciamo io veramente ho premesso che la mia che la mia domanda sarebbe stata poco seria in questo in questo senso che nella galleria di personaggi che sono scorsi nell'ultima relazione veramente personaggio eccezionale dall'occhio l'assenza di un certo d'annunzio per cui mi incurio che è vero che non era un uomo di scienza però fu comunque nominato in zona cesarini alla carica di presidente dell'Accademia d'Italia anche se non prese mai possesso dell'ufficio ecco sinceramente mi incuriosirebbe il fatto se in qualche modo il suo nome abbia avuto si è intervenuto nella vicenda generale no direi di no però la voce la voce su d'annunzio è una voce ovviamente insomma bella consistente bella se poi è possibile una breve appendice appunto all'ultima relazione la situazione attuale del dizionario biografico degli italiani perché sinceramente adesso è qualche anno che non lo consulto no beh sta in prosecuzione mi pare che si sia arrivati alla lettera P sì i volumi stanno regolarmente uscendo P compresa uno in P.A credo che si sia arrivati a P.A sono in preparazione P.I.P io cercai appunto cercai appunto un personaggio una poetessa abruzzese del Seicento Petronilla Paolini Massimi io la cercai sotto tutti e due i cognomi e non la trovai rimasi un po' deluso insomma una poetessa della quale attualmente il culto è limitato forse alla zona della natia marsica dove ogni tanto la ricordano non le so dire non le so dire però potrebbe essere stata citata invece nella enciclopedia e conviene in questi casi sfogliare il volume degli indici quello pubblicato nel 39 no ci mancherebbe anzi grazie devo porre questa domanda siccome credo che tutti conoscono la storia anche di Enriquez grande matematico certo che invece aveva un'altra visione sì e allora e mentre invece questo umanissimo come affermazione della cultura italiana però poi abbiamo perso l'incontro con la scienza con la matematica con le scienze esatte senza esatte con il danno che poi è accaduto con addirittura la dispersione dei ragazzi di via panisperma e tutto il resto di quello insomma abbiamo perso l'incontro con la scienza ovviamente la dispersione dei ragazzi è una responsabilità di gentile comunque a parte questo Federico Enriquez fu il direttore della sezione matematica ed è significativa questa scelta perché pensando poi alla polemica che si ebbe tra il 1908 e il 1912 tra Federico Federico Enriquez da una parte e Croce Gentile dall'altra in realtà Gentile poi si limitò diciamo così a scrivere un articolo pubblicato sulla critica nel 1908 sì un po' così dove si esprimevano alcune perplessità in merito alla posizione di Enriquez e della sua filosofia della scienza e poi ci pensò Croce a metterci come dire il carico da 11 nel 1912 però ecco mi sembra molto significativo che Enriquez poi sia stato nominato direttore della sezione matematica anche se alcune voci diciamo di fronte sono state compilate da filosofi attualisti e non da matematici filosofi della scienza insomma però in ogni caso il settore scientifico ebbe un buon riconoscimento all'interno dell'enciclovedia e Enrico Fermi prima redattore poi direttore della sezione fisica pubblicò una serie di voci e diresse con grande entusiasmo questa sezione in precedenza all'inizio diretta da Michele Larosa che era un fisico dell'Università di Palermo critico nei confronti della teoria della relatività che con Quirino Magliorana cercava di sconfiggere proprio in quel periodo così è possiamo avviarci alle conclusioni ringrazio i relatori tutti coloro che sono intervenuti in queste due giornate di lavori molto intensi soprattutto gli organizzatori e mi auguro ecco di incontrarci in futuro non soltanto per festeggiare o ricordare un anniversario legato alla figura di Giovanni Gentile ma forse ecco in modo più frequente spontaneo senza ecco la necessità di ricordare anniversari come questo anniversario molto importante della morte di Giovanni Gentile ma semplicemente per approfondire la filosofia il pensiero l'opera di Giovanni Gentile che per molti aspetti è ancora inesplorata grazie a tutti grazie grazie Grazie.